Ciao creatura Io sono Ecati Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Gullai ASMR e si bene si un altro catalogo un libriccio tipo un magazine del Lidl questo va dal Natale 2019 dal 28 ottobre allora questo libriccino l'ho trovato in cassa lo sa chi mi segue su Instagram se ancora non lo fai seguimi mi trovi con il nome Ecati Sprendente e già che ci sei ti invito a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto ad attivare la campanella e a mettermi anche un bel mi piace al video hai fatto? aspetto hai indossato le cuffie creatura benissimo possiamo iniziare allora questo è una specie di un libriccino ha una consistenza troppo piacevole al tatto non capisco che carta sia perchè è morbida plastificata ma morbida tipo ha una consistenza un sacco piacevole al tatto è sorprendente non l'ho mai provata si anche queste cose sono importanti secondo me sono quei piccoli dettagli che fanno la differenza non trovi mi dispiace se forse a volte parlo troppo velocemente eh forse si me ne sono accorta adesso ma è proprio il mio modo di parlare che tip notizia allora questo è come una specie di magazine non so se è una novità o se l'hanno già fatto e ora copertina dice magico natale poi c'è questo piatto che fa voglia di spaghetti credo sia caviale non lo so con una cremina favorina e deluxe deluxe i nostri prodotti esclusivi per il tuo natale le ricette di natale guardo i video sul nostro canale youtube addirittura che credo di essere iscritta tra l'altro al canale youtube di Lidl perchè sono malata di Lidl lo sai io adoro poi ed è regalo tantissimi giochi in legno concorso deluxe scopri i fantastici premi ok qua ci dice cacao 100% certificato sostenibile qui dice questa fair trade fair trade non so sicuramente l'ho detto male è un'organizzazione no profit internazionale che si propone di assicurare migliori condizioni di vita e di lavoro agli agricoltori e ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo il cacao certificato fair trade garantisce un prezzo eco e stabile un guadagno aggiuntivo per gli agricoltori produttori un supporto ai produttori nello sviluppo di conoscenze tecniche per il miglioramento qualitativo del cacao nuove opportunità di commercio per i produttori fair trade cocoa program è il programma che connette i produttori di cacao con le aziende che hanno scelto di commercializzare cacao sostenibile noi ci siamo e tu e ci sono queste mini palline di cioccolato poi UTZ lo dico così non so se si pronuncia in un altro modo chiedo scusa è un'organizzazione no profit che supporta l'agricoltura sostenibile facilitando il miglioramento delle condizioni dei coltivatori locali delle loro famiglie e promuovendo la salvaguardia del pianeta il cacao certificato UTZ contribuisce a evitare la deforestazione e l'inguinamento dell'habitat supportare gli agricoltori locali per promuovere buone pratiche agricole aiutare gli agricoltori a massimizzare il raccolto e i loro guadagni nel rispetto dei diritti dei lavoratori assistere gli agricoltori per affrontare i problemi legati al cambiamento climatico gestire le risorse idriche in maniera responsabile e c'erano questi macron deluxe interessante anche vedere da dove arriva che cosa fanno insomma perché prendono un prodotto piuttosto che un altro sono cose che spesso non vengono lette si prende il Deblian si prendono questi libricini si guardano solo i prodotti ma non si va a leggere proprio tutto dico bene allora abbiamo dei cioccolatini al latte dei bastoncini pappo natale di cioccolato cioccolato al latte con ripieno quelli con ripieno mi fanno sempre più voglia le monete di cioccolato i cuori di pan speziato i dolcetti abbiamo visti anche prima nell'altro video torroncini italiani alle mandorle marzapane ripieno a te piace il marzapane io non lo so perché non so se l'ho assaggiato sinceramente pralline di cioccolato dolcetti di marzapane questi qui non mi piacciono sono sicuri sono troppo dolci infatti sono glazzati biscotti speziati con mandorle peluche e giochino in legno che carino questo peluche biscotti in confezione di latte ecco queste confezioni sono bellissime queste qui però poi mi riempirei solo di confezioni nel massimo poi abbiamo i calendari le pralline l'albero di natale il papo natale le gelatine di mela queste non sono buone sembrano quasi quelle fatte in casa sacchetto natalizio con soggetti vari per fare qualche regalino animoletti di peluche è la crema che abbiamo visto quella di biscotto poi c'è il panettone senza glutine con solo uvetta e senza frutta candida guarda questo eh vedi non male però eh così si può tutti possono mangiarlo anche le persone che non possono mangiare il glutine è molto importante il panettone classico con uvetta e frutta candida non mi piace né l'uvetta né la frutta candida ma comunque il mio preferito è pandoro eh si il team pandoro io sono i miei taglioli speziati biscotti speziati mini stolle dolcetti al burro ripini di marzapane non li conosco mini pan di zenzero dolcetti di pan bevato marzapane al cioccolato cuori prezzi stelle di pan speziato e questa la casetta poi dolcetti con marzapane arancia pan speziato ricoperto con cioccolato poi il pan speziato il miele fighi pan di zenzero il miele con mandorle e poi c'è questo set di scatole per biscotti che bello poi ce li puoi mettere tu i biscotti puoi prendere questi e metterli tu dentro oppure fare dei biscotti a casa che bella idea belli regali bellissimo poi andiamo con i prodotti cambero rosso mi fa voglia tutto abbiamo come se fosse nel mio negozio se fosse un roleplay abbiamo qui nel catalogo camberi argentini mostarda di mele cotogne trismigno questi li abbiamo visti già poi tagliolini al tartufo succo di cinghiale wow gelatole pistacchio 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 avete mai sentito hai mai sentito gli americani dire pistacchio fa troppo ridere mi fa mi trigger è bellissimo mi fa tenerezza fa tipo pistacchio una roba così è carinissimo non lo so perché non mi fa ridere questo l'abbiamo visto nell'altro video sugo ai tre arrosti ma che cos'è? la voglio troppo assaggiare crema gianduia fondente wow deve essere orgasmica salmone avumicato polenta al torneco ravinevo con il tartufo incrostata per il cioccolato trittico di avumicato di questo fa voglia e il resto abbiamo già visto poi c'è il gulatello affettato panzerotti camberi e polpa di grano anche questi li ho mangiati l'anno scorso sono veramente buoni poi patate d'occhiesse sato di mare con cose fungole camberi mazzancolle tropicali mazzancolle tropicali senti come essa merda questo l'abbiamo già visto nell'altro video anche questi tessert tranne questo torrone tenero diversi gusti a scelta fanno molta voglia il torrone buonissimo secondo il mio punto di vista ecco eccoli qua i tè guarda come sono presentati bene ci sono anche dei bastoncini ah no quelli lì andavano insieme li puoi fare come regalo bella idea regali uno di questi uno di questi bastoncini che poi sciogli nel nel tè caldo bello bello mi piace molto elegante poi qui c'è una ricetta addirittura però c'è tanto fuori ma non piace e praticamente ti dicono ehm ehm acquistando questi prodotti puoi fare questa ricetta è molto geniale secondo mio punto di vista perchè ti danno anche le idee di come usare questi prodotti che magari sono particolari e non non li conosci non sai come abbinarli poi c'è questa pizza confichi formaggio di capra e cipolla rossa fa voglia sinceramente mi fa molta voglia poi ci sono questi preparati per risotto ma io il risotto me lo so fare in casa perchè una delle cose mi riesce abbastanza bene quindi ok poi c'è questo salame ragù di lebre patè di radicchio wow patè di radicchio che bello che buono asparagi verdi che sono i più buoni secondo me tra quelli bianchi agli verdi preferisco quelli verdi tessera al mango mmmm mango lampone o limone mango cheesecake al caramello al cioccolato tirami su panettone alla stracciatella wow ma c'è la cremina dentro wow panettone pere cioccolato se qualcosa lo salto eh perchè abbiamo già vissuto un altro video pizza bianca con salsa al tartufo nero e prosciutto cotto non mi piace il tartufo polpi indopacifici in salsa wow mortadella al tartufo comunque salsiccia di cinghiale non l'ho mai saggiato poi c'è il sale cos'è quello? il sale rosa del malaya o solo sal gemma sal gemma sal gemma sal gemma sal gemma formaggio stagionato alla birra wow patè di peperoni e mandorle wow mi prenderei tutti questi patè mi farei tutti i crostini mmm succo polpo i porcini a me non piace invece abbinare il pesce ai funghi che sarebbe mariamonti ma a me non piace forse perché mi piacciono poco i funghi qui c'è una ricetta petto d'anatra affumicato con insalatina infernale wow e infatti ti vendono anche il rifletto di petto d'anatra e poi ti dicono come cucinarlo e ti dicono è una bella idea poi c'è un'altra spaghetti alla chitarra con burrata affumicata limone e caviale scusami e infatti ti vendono anche il caviale di storione bianco madonna e la burrata beh la burrata fa voglia devo dire ha affumicato un po' meno e ci sono le ricette questi abbiamo già visto se non sbaglio sono nulla di che gnocchi quelli buonissimi anche qua c'è un'altra ricetta di gnocchi con zucca amaretto arricchiti confonduta di questo formaggio che non so pronunciare e funghi trifolati e qui c'è tutto l'occorrente per fare questa ricetta che bello ma che belle posate adoro queste cose io proprio ci vado ci sballo proprio a leggere tutte queste cose non so organizzare beh c'è questo mix di frutta secca con un cucchiaino che non mi piace qui sotto funghi e tartufo niente cioè non ne veniamo fuori pizza la pala con formaggio di capra il crema all'aceto balsamico di modena IGP ma io devo assaggiarla è buonissima poi non c'è il tartufo ovviamente qui c'è il solito grande concorso che spero di vincere dei buoni spesa perché è la cosa che mi fa più voglia qua così per posso prendermi altro cibo pizza bianca alla pala con pere e corconsola anche questo corconsola spray adoro citazione formaggio erborinato filetto di acciughe bottarga di mucine adoro a me piace un sacco la bottarga che è uova di mucine è come il caviale tipo che anche il caviale è uova sono uova di pesci sono molto salate e sono buonissime e non fare eh che schifo perché se mangi le uova di gallina cosa cambia per mangiare le uova del pesce? niente sempre uova sono quindi non fare eh ti ho visto sai che hai fatto eh dentro di te che è un confetto uova le mie creature sono tutte aperte di mente secondo me nessuno ha fatto vedere c'era stato qualcuno che non era una mia creatura tra dove al cioccolato cibo confettura extra di fichi sopra il cioccolato bianco oppure con cuore morbido fondente col pistacchio lo stai vedendo? questa vedi che è il verde che esce il pistacchio buonissimo pollicine superstar bello bello belle grafiche belle foto mi piacciono calamari patagonici patagonici zafferano qui c'è un'altra ricetta calamaro ripieno con crema di patate allo zafferano che bello che voglia mamma mia i calamari io non li ho mai cucinati so fare le seppie e i buoni ma i calamari non li ho mai fatti voglio provare ripieni di cosa sono ripieni? molica di pane forse allora gli ingredienti sono molica di pane pan grattato uovo grana, padano riserva 20 mesi aglio, prezzemolo, peperoncino, vino bianco sale e pepe per la crema di patate latte, olio sale succo di limone zafferano impistibili facilissimo che buoni mamma mia filetto di manzo confonduta di bastardo del grappa e aceto balsamico bastardo del grappa e questo formaggio e lo stavo offendendo a nessuno allora qua ci sono ventagli di manzangore i manzangore sono buonissime qua c'è un salame con granella di nocciola particolare armonie bicolore io ho mangiato l'altra volta presi al Lidl le armonie bicolore alla zucca e al parmigiano se non sbaglio questi invece hanno parmigiano reggiano che sono quelli di gialli ecco tartufo vabbè come non ho detto invece quelli erano gialli e c'era il parmigiano e poi c'erano arancioni e erano la zucca ti giuro buonissimi se mi piacesse tartufo li proverei ovviamente ma non mi piace adoro il mascarpeno adoro il gorgonzola però senza mascarpone ho detto il contrario di quello che volevo dire questo qua prenderei gorgonzola dolce top al cucchiaio gorgonzola 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 non ti è venuto un po' voglia di gorgonzola gorgonzola ritorno solo a dettaglio poi qui abbiamo il plan di panettone wow che bella ricetta meno plastica abbiamo eliminato dai nostri scaffali prodotti monouso in plastica passa al biodegradabile e compostabile i nuovi prodotti aromata sono biodegradabili e compostabili e vanno smaltiti nei rifiuti organici un gesto concreto per aiutare l'ambiente questo io lo adoro poi ecco qua guardiamo anche i giochi dai infatti abbiamo uno sguardo veloce anche a questi oggetti anche se non è cibo anche se non ci interessa di più il cibo però caro babbo natale quest'anno vorrei un che cosa vorrei? che belle barbie insomma non ho tanto belle adesso che le vedo bene vabbè barbie sirena è bella cavoli anche questi giochi puzzle 3d con letto molto belli giochi di società non so se vanno più tra i bambini puzzle 3d o florescente wow giochi di società bambula piccolina prime parole wow questi personaggi di star wars microscopio a me a un anno mi hanno regalato il microscopio ci ho giocato un sacco da mia nonna prendevo tutte le robe per terra insetti morti foglie qualsiasi cosa e le guardavo al microscopio non capivo niente di cosa stessi guardando ma era divertente ero ecca di piccola scienziata pazza al periodo di natale addirittura io non lo posso fare perchè sembra distrugge calendario dell'avvento credo che sia vuoto questo o è pieno credo sia quello vuoto da riempire non lo specifica però che belli anche questi come Girlande forse sono di bellezza non avrebbe senso ne fammelo sapere nei commenti se sai che questi hanno i regali o se devi riempirli set palline natalizie con led addirittura belle catena luminosa led atmosfera luminosa decorazione natalizia eh ma non ho neanche un giardino dove me lo metto purtroppo quando ho una mia casa potrò mettere anche a doppia adesso ancora non ce l'ho allora ci sono questi utensili della cucina questi stampi natalizi in silicone per dolci o per resina dipende dal punto di vista l'anno scorso sono rimasta male perchè avevano messo i pullover natalizi con i led i maglioni e poi nessuno tutti quelli che sono andati al led per prenderli nessuno li ha trovati quindi non li hanno neanche rimessi ci siamo rimasti veramente male tutti questo led non dovevi farlo che bella questa con le finte pretelle noto simpatica noto simpatica nastro per pacchi set sacchetto regalo rotolo carta regalo che vi oggi a natale acquista un buono regalo trentino alto adice trentino alto adice cosa regalo natale il tempo per scegliere regali sta per scadere mamma mia mamma ci metti l'ansia però così l'iter non è vero non è così l'iter per quelli dell'ultimo minuto ci sono le carte regalo l'iter se le puoi scegliere tra un buono spesa da 10 20 o 50 euro le trovi in tutti i nostri punti vendita vicino alle case è un bellissimo regalo secondo me poi uno si compra quello che vuole al Lidl cibo sicuro che lo spenderai anche se vuole al Lidl non ci sono più le olive greche lo so sono finite io sono andata avanti un mese a mangiarle anche di più e hanno troppo buone va bene e basta poi c'è sulla via del domani il nostro impegno per un futuro più sostenibile rendere sempre più sostenibile il nostro assortimento dare il nostro contributo alla società collaborare a stretto contatto con i nostri partner commerciali offrire un ambiente stimolante ai nostri collaboratori ridurre il nostro impatto sull'ambiente è bello queste cose sono belle oltre il carrello Lidl contro lo spreco un progetto in collaborazione con il Banco Alimentare per il recupero delle eccedenze che cos'è questo mi interessa allora Lidl Italia consapevole del proprio ruolo nella società ha scelto di impegnarsi nella lotta contro lo spreco del cibo è nato così in collaborazione con la fondazione Banco Alimentare il programma di recupero delle eccedenze oltre il carrello Lidl contro lo spreco un progetto che prevede la donazione costante dei prodotti non più vendibili secondo gli standard commerciali ma ancora buoni e sicuri dal pane all'ortofrutta fino agli articoli confezionati le eccedenze dei nostri supermercati vengono recuperate attraverso un piano di ritiro quasi giornaliero da parte di una rete di strutture caritative locali per poi essere distribuite a chi ne ha bisogno che bello ad oggi abbiamo già raccolto centinaia di tonnellate di cibo e presto l'iniziativa sarà estesa a livello nazionale con l'obiettivo di donare altre 10 milioni di pasti all'anno oltre 10 milioni di pasti all'anno un impegno tangibile che rafforza ulteriormente il nostro regame profondo con il territorio ad oggi più della metà dei punti vendita leader partecipa al progetto 350 punti vendita leader attivi su un totale di oltre 650 da inizio 2018 sono state raccolte donate oltre 5 mila tonnellate di cibo che equivalgono ad oltre mamma mi viene da piangere sono troppo sensibile a queste cose mi fermo qua per fortuna che non si vede la mia faccia allora può andare per le feste per ogni panettone acquistato leader ne donerà un decoro farmi piangere in questo video leader doerà uno la croce rossa italiana che utilizzerà per finanziare i progetti di solidarietà che bello leader mi piace ancora di più adesso che ho letto queste cose non lo sapevo sinceramente non le sapevo grazie per aver visto questo video spero di averti fatto rilassare anche se è sempre il solito catalogo dell'italia in realtà abbiamo scoperto cose nuove e sono molto contenta di averti tenuto a compagnia anche questa sera ciao creatura buonanotte 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 ciao creatura grazie a tutti